Un incendio divampato nella giornata di mercoledì 3 aprile intorno a mezzogiorno a Caluso, precisamente alla Giuliano, ditta di torrefazione caffè situata in via Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea Castellamonte, la polizia locale, i carabinieri di Caluso e il sindaco Maria Rosa Cena. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme sviluppate nel capannone di produzione, prima che potessero espandersi alla palazzina uffici. Danni ingenti, ma fortunatamente nessun ferito o intossicato, accertamente in corso sulle cause.